salve sto cercando rai picco e un paio di mutandine pulite ah ci si legge ace e vuol dire la chiappa animali ammazza noi a chiappa guai grande fiuto istinto fino alla caccia di un delfino non entrata è lì dentro gincarri detectivi senza paura è la chiappa animale in prima tv lunedì 20 e 50 canale 5